Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Il dono della gioia e della pace sono doni portati da Gesù ai discepoli. Il giorno di Pasqua racconta l'Apostolo Giovanni, quando Gesù apparve loro nel cinacolo e disse «Pace a voi!» e detto questo, alitò su di loro e disse «Ricevete lo Spirito Santo! A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Guardate la pace che Gesù dona agli Apostoli, pace prima di tutto con Dio, Gesù la riconciliazione di Dio Padre con l'umanità intera. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. E Gesù dà la pace all'interno della coscienza dell'uomo. E infatti pace a voi, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. È il primo dono di Dio la rimissione dei peccati. Chi riconosce Gesù Figlio di Dio e l'accoglia riceve la rimissione di tutti i peccati, non solo il perdono, ma come abbiamo visto più volte, la cancellazione della colpa. Per cui si torna ad essere figli di Dio, in comunione con Lui, in comunione col Padre e col Figlio, nello Spirito Santo, in comunione tra di noi, pace all'orne e la Chiesa, perché si diventa tutti membri dello stesso corpo di Cristo e perciò noi siamo membri gli uni degli altri. Formiamo un corpo solo in Gesù, unione nuova in famiglia, non più sentimenti, affetti basati su sensazione, emozione e altro, ma unione nello Spirito Santo, dove i mariti e i mogli formano un cuor solo e un'anima sola. E la casa diventa tempio di Dio, casa di preghiera. Ecco la pace che Gesù porta ai Suoi discepoli e porta all'umanità. Pace poi col prossimo, pace anche col creato che ci è stato posto attorno. Manda il Tuo Spirito, Signore, e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Padre, Tu hai istruito i Tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo. Concede a noi di avere nello stesso Spirito il gusto del bene e di godere sempre del Suo conforto. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, Tuo Figlio, nostro Signore, che viva e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel Vangelo di oggi, fratelli, la Chiesa ci presenta una manifestazione di Gesù ad alcuni degli Apostoli e, sottointeso anche, secondo quando racconta San Paolo nel quindicesimo capitolo della prima lettera ai Corinti, Gesù, dopo la sua risurrezione, chiese alle donne di dire agli Apostoli e agli altri discepoli di andare in Galilea e lì l'avrebbero incontrato. E infatti San Paolo parla di una manifestazione a più di 500 discepoli e aggiunge, la maggior parte di loro vive ancora, mentre alcuni sono morti. E nell'ambito di queste manifestazioni in Galilea, Gesù, Pietro e alcuni Apostoli che erano andati a pescare, mentre tornavano a riva, chiese se avessero preso qualcosa e chiese loro di gettare le reti dall'altra parte, perché purtroppo la pesca era stata scarsa e lì fece una grossa pesca di oltre 153 grossi pesci. E arrivando verso la riva, San Giovanni disse a San Pietro, è il Signore. Guardate Giovanni, ha una penetrazione del mistero di Cristo molto sublime e riconosce in quell'uomo sulla riva Gesù Cristo. E allora San Pietro si butta in acqua e arriva e raggiunge Gesù a nuoto. E Gesù offre loro del pesce. Portate un po' di pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. E Gesù si avvicinò, prese il pane, lo benedisse e lo dite ai discepoli. Ed è l'errore del pesce che aveva già cucinato per loro. E al termine di questo episodio Gesù si avvicinò a San Pietro chiedendogli, Pietro mi ami tu? Pietro mi ami tu? Per tre volte Gesù fece ripetere a Pietro, Signore sì, tu lo sai che io ti amo. E Pietro sinceramente amava Gesù. E Gesù gli affidò l'incarico di governare la Chiesa. Pasci i miei agnelli, pasci i miei annelli. A guidare la Chiesa è Gesù, fratelli. Quando noi ci fidiamo di Lui, lasciamo agire il suo Santo Spirito in noi. E nella prima lettura di oggi dagli Atti degli Apostoli noi abbiamo la grazia di proclamare una grande professione di fede che fa San Pietro davanti al Sinete dopo la guarigione dello storpio. Ed essi insegnavano nel Tempio che Gesù era risuscitato quando arrivarono le guardie, i sommi sacerdoti, i sadducei che non credevano alla risurrezione dei morti, quindi non tolleravano che si annunciassi non solo la risurrezione di Gesù che loro avevano fatto crocifiggere, ma nessuna forma di risurrezione. Mentre in mezzo al popolo, soprattutto in mezzo ai farisei, c'era la fiducia nella risurrezione dei morti. Allora essi vengono arrestati, messi in prigioni e il giorno dopo compaiono gli Apostoli davanti ai sommi sacerdoti perché si alternavano nella carica, quindi più di uno aveva questo titolo a quel tempo e viene chiesto a loro in nome di chi avessero compiuto quel prodigio e Pietro con molta semplicità annuncia nel nome di Gesù Cristo il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dei morti costui vi sta innanzi risanato nel nome di Gesù questo Gesù sentite quando dice San Pietro è la pietra che è stata scartata da voi come dice il Salmo 118 è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo nell'edificio di Dio e conclude l'Apostolo Pietro non vi è sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati durante l'anno santo si parlava molto della comunione e di avvicinare le altre chiese cristiane benissimo di avvicinare persone di altra religione benissimo ma Papa Ratzinger che allora era prefetto della congregazione della dottrina della chiesa pubblicò un documento che sembrò quasi un documento di rottura in cui proclamava che non ci ha salvezza sotto il sole se non nel nome di Gesù questo poteva sembrare un documento di rottura all'interno di quel dialogo che si stava facendo all'interno della chiesa con altre professioni ma vuole essere un richiamo solenne sì amiamoci tutti ma sappiamo che la salvezza viene da uno solo dall'accettare che Dio ha tanto amato gli uomini da dare il suo figlio a un genito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui Gesù è questa pietra scartata dagli uomini ma nelle mani di Dio la pietra angolare per costruire l'edificio della chiesa oggi tanti fratelli si stanno allontanando da questa pietra costruendo su altri edifici che sono destinati a crollare che stanno già crollando in tanti modi Gesù è la roccia colui che ascolta queste mie parole è come l'uomo sangio che ha costruito la sua casa sulla roccia Signore Gesù Tu oggi ci dai la gioia di riconoscerci come fondamento della nostra vita e della nostra salvezza in nessun altro c'è salvezza all'infuori di Te noi ti ringraziamo perché Tu oggi ti manifesti a noi e nella Tua Pasqua ti sei rivelato come il grande Signore e Salvatore onnipotente che conduce ogni uomo a Dio Padre a Te sia gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amene e congetto a tutti nella grazia di saper testimoniare nella vita attraverso le opere attraverso la parola attraverso gli annunci che Tu sei il Signore e di saper ogni giorno celebrare che Tu sei il Figlio di Dio il Salvatore del mondo in cui tutti troviamo salvezza e vita eterna a Te gloria per tutti i secoli dei secoli amene Vergine Santissima che in tante parti di questo mondo ti manifesti per condurre gli uomini alla fede in Gesù Tuo Figlio nostro Signore donaci di riconoscerlo presente ma soprattutto di riconoscerlo potente nel liberare nel perdonare nel salvare è Lui la nostra vita Egli la è via la verità e la vita Donaci di saperla amare come Tu l'hai amato l'hai accolto perché sia il Signore e il Salvatore di tutti e tutti abbiamo a sperimentare la potenza della Sua salvezza a Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli Amen e il nome di Gesù fratelli sia sempre nella vostra mente sulla vostra bocca nel vostro cuore vedete quando in Chiesa viene proclamato il Vangelo noi facciamo tre segni di croce sulla fronte sulle labbra e sul cuore cioè quello vuol dire Gesù sia nella mia mente sulla mia bocca e nel mio cuore e questo ogni giorno avvenga in voi Amen Grazie a tutti